Dagli Stewart per accompagnare le persone sotto l'ombrellone alle distanze tra i lettini, dalla sanificazione delle superfici comuni allo stop ai balli. Sarà un'estate diversa per chi frequenta le spiagge dell'Emilia Romagna. La regione ha diffuso le linee guida per la stagione balneare, con l'obiettivo di permettere a tutti di andare al mare in sicurezza. Negli stabilimenti la superficie minima per ombrellone dovrà essere di 12 metri quadrati, indicativamente 4 e 3 metri tra paletti degli ombrelloni e delle file, mentre saranno obbligatori 1,5 metri tra lettini e sdrai. Varà sempre la regola del distanziamento sociale di almeno un metro, evitando assembramenti. Sarà possibile prevedere un servizio di delivery dei passi sotto l'ombrellone oppure in aree ristorazione in grado di garantire il distanziamento. Le aree giochi per bambini andranno delimitate e sarà consentito un numero limitato di presenze. I bagnini dovranno predisporre la pulizia frequente e la sanificazione periodica delle attrezzature da spiaggia, idem per la toilette, docce e cabine. Sì, agli sport individuali anche in acqua, mentre per gli sport a coppia o in gruppo valgono le indicazioni fornite dal Ministero. Sono invece al momento vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali, con la sola eccezione di quelli di ascolto con postazioni sedute. Per le spiagge libere c'è la possibilità da parte dei comuni di prevedere accessi contingentati. Queste le regole decise dalla Regione, ma sta facendo molto discutere il documento diffuso nelle scorse ore con le linee guida consigliate da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. Si parla tra l'altro di spazi molto maggiori in spiaggia, 5 metri tra le file e 4,5 tra i paletti degli ombrelloni, 2 metri tra i lettini e di regole stringenti per salvataggio e distanze da rispettare anche mentre si fa il bagno.